L'arredo scolastico non più utilizzabile ma in buono stato rivive tramite associazioni no profit che si occupano di educazione e istruzione. Il Comune di Prato a marzo ha indetto un bando per cedere banchi, panchine, lettini, armadio e cattedre, a cui hanno partecipato otto associazioni. Tra queste è l'operazione Mato Grosso, che invierà 311 banchi, due panchine e una decina di lettini ad una scuola in Perù. Festazioni in interesse per tutte le associazioni potevano partecipare di Prato perché i materiali ancora in buono stato potessero essere utilizzati e reutilizzati da qualcuno, altrimenti sarebbero stati rottamati. Quindi abbiamo un numero spico di banchi in monoposto, alcuni lettini da scuola dell'infanzia, materna e alcuni arredi come le piccole panchine delle nostre asili e delle nostre scuole. Gli arredi destinati al Perù arrivano dall'Istituto Comprensivo Convenevole. Abbiamo avuto l'idea di far scrivere ai nostri bambini una lettera di accompagnamento di questi beni che raggiungeranno il Perù, con dei saluti, delle frasi di amicizia. L'operazione Mato Grosso ha destinato il materiale alla missione di Kimboti in Perù, una baraccopoli nel deserto dove vivono 70.000 persone in condizioni precarie. I bambini trovano nella scuola un ambiente completamente diverso, un ambiente pulito, decoroso e la possibilità di anche un futuro diverso nella loro vita.